. GF VIP, Daniele Bossari La clamorosa rivelazione tra le lacrime Vince Whedon. La commozione del conduttore nel ripercorrere il suo momento no, il retroscena. . Ha disegnato la linea della vita e non ha trattenuto le lacrime Daniele Bossari. Il conduttore televisivo era tra i pochi protagonisti del reality show di Canale 5 a non essersi cimentato con il racconto intimo alla lavagna. . Dopo la proposta di matrimonio a Filippa Lagerba con Dieresi CK nel corso della penultima puntata del GF VIP il milanese si è lasciato andare a nuove confidenze. . Il 43enne ha ripercorso il suo lungo momento no, non volevo vedere nessuno, mi ero isolato. Daniele ha ammesso di aver incontrato difficoltà nel momento in cui sono arrivate le prime critiche. . A 15 anni avevo le idee chiare su quello che volevo. Bossari ha raccontato di aver goduto appieno del momento doro. . Raggiunto l'apice è arrivata la parabola discendente in coincidenze con i primi rilievi mossi dall'esterno. Era come ricevere delle frecce al cuore ed ore agito malissimo. Il VIP ha svelato di aver cercato rifugio nell'alcool. Bevo tantissimo, quasi da far schifo. Bevo tantissimo, da far schifo. L'incontro con la modella svedese ha cambiato la vita del presentatore. In quel periodo ero troppo vulnerabile e Filippa mi ha aiutato a venirne fuori. . Bossari ha affermato che è stato in quel periodo che ha compreso che la show Jill sarebbe stata la donna della sua vita. E' stata sempre al mio fianco. . Il conduttore televisivo è tornato a sorridere anche grazie all'arrivo della figlia Stella. Ha dato un senso alla nostra vita. La serenità familiare faceva da contrasto alla delicato momento attraversato in ambito lavorativo. . Il milanese ha riferito che il telefono non squillava più e l'assenza di proposte lavorative l'aveva nuovamente in tilt. Mi sono allontanato da tutto. . Visibilmente commosso Daniele ha rimarcato di essersi distaccato anche dalla famiglia e che quella voglia di stare lontano da tutti lo stava portando all'autodistruzione. . Il 43enne ha spiegato che continuava a porsi domande e da chiedersi cosa stava facendo. Tra le lacrime Bossari ha sottolineato che la svolta è arrivata grazie al cancelletto Grande Fratello Vip. . Quest'esperienza mi ha dato la forza di rialzarmi. Senza fare giri di parole Daniele ha rimarcato di essere rinato grazie alla partecipazione a Reality. . Pianto a dirotto che è proseguito nelle ore successivo quando il presentatore ha ricevuto uno striscione di sostegno da parte dei fan. Dani grazie per tutte le emozioni. .